Ciao, nel video di oggi vi mostreremo come regolare la luminosità dei tachimetri 50 giri del cruscotto. Bene, se a questo scopo avete questo pulsante con un più e un meno, quindi come immaginate se premo il meno la luminosità si abbassa, quasi si oscura, può essere più comodo per gli occhi e se premo il più aumenta fino al massimo della luminosità.